Il libro di Adelina Avanti! Si può? Venite, venite! Vi posso offrire delle ribadette di Adelina? Ma certo! Grazie! Grazie! Com'è? Ehi! Che volevate? Dopo ore e ore di camorriolo sul travaglio nella stanza delle memorie Abbiamo trovato qualcosa Che cosa? Quello che cercavamo Ma adesso le piscine d'amore Che? Agatha l'aveva nascoste dentro un diario di un nobile vissuto nell'ottocento E adesso dobbiamo scoprire chi le ha scritte Già fatto Abbiamo identificato l'autore E non è il professore Scania E chi sarebbe? Grazie! Grazie! Grazie!